Extreme Gym, Body and Fight, per chi non vuole una semplice palestra. Sono contenta che qui si stia lavorando in questo modo, perché Anna Maria, devo dire che quando era presente la Commissione Istruzione e Formazione della Regione, io era assessore, abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme, in una realtà complessa, difficile, e io sempre da lei ho avuto una lezione che oggi la sta confermando come assessore, quindi le faccio ancora molti auguri e molti complimenti, quella di avere grande passione per il suo lavoro, per il suo impegno, per le istituzioni e per le nuove generazioni, ma anche una grande capacità di ascolto e di metodo nel suo lavoro. E questo è fondamentale, perché raramente, vi assicuro, vedo assessori che hanno cominciato 5 mesi, la tua azione, e che cominciano con questa umiltà, di vedere che cosa c'è, qual è la realtà, affidare non solo, non farlo in prima persona, ma avere allargato queste partecipazioni, ascoltare e verificare la ricchezza e le potenzialità, e poi cercare di lavorare in rete. Questa, secondo me, è la prima delle ricette per fare, in un momento anche difficile, anche economico, delle risorse, si è detto prima delle risorse, una capitalizzare quello che c'è e creare sinergie, questo mi pare importantissimo. Anche le specifiche, diciamo, i settori che avete individuato nei vostri gruppi di lavoro, e quindi il territorio, la cultura del sapere, la creatività e libertà, questo è stato molto bello, tutta la questione relativa anche al spettacolo dal vivo, insomma, ci sono, io conosco molte realtà anche qui, qui adesso ho visto prima il gioco del teatro, che insomma sono ragazzi straordinari, che io credo che sia stata una delle talent scouting, perché li ho scoperti quando erano ancora poco conosciuti, e devo dire che sono una realtà molto viva, ma ce ne sono tante altre che sono emerse. Allora, e poi vedo che c'è qui anche la direttore generale regionale della cultura, della sovracultura, dottoressa Cipriani, e quindi mi pare che già questo sia un parterre che può consentire, come? Dottor Regoli. Dottor Regoli che ho visto prima è andato ad andare via, e perché questo significa lavorare anche insieme come istituzioni. Allora, prima questione che vorrei chiarire, perché il tema è sempre cosa può fare l'Europa, cosa fa l'Europa per la cultura, e talvolta anche che risorse ci sono per noi. Allora, partiamo subito dal presupposto. Le politiche culturali in Europa sono in un certo senso recenti come politiche europee, perché la cultura, come voi sapete, come l'educazione, è molto legata alle identità nazionali, e quindi è sempre stato un terreno su cui senti sempre molto cauti e con molta attenzione a non voler minimamente né omologare né fare direttive su questa materia. Quindi è quella che si può chiamare, dal 90, direi che dagli anni più che altro, dai fine anni 90 e primi del 2000, si è cominciato con prima un libro bianco, un'agenda, diciamo così, un'agenda europea sulla cultura, cominciare a delineare quali erano le priorità, ma adesso siamo dentro una fase un po' diversa. Perché? Perché con il Trattato di Lisbona, quindi nel 2010, ci sono due capisaldi dentro il Trattato, quindi dentro la Costituzione europea, che legittimano un intervento dell'Europa, sia pure con molto rispetto della sussidiarietà, ovvero che la cultura è qualcosa che esprime la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Europa. Noi diciamo che l'Europa è uniti nella diversità, la diversità culturale è quella che più la caratterizza, ma che ha anche una sua ricchezza. E allora gli ambiti in cui si può intervenire, per cui sono nati poi i programmi sulla cultura a cui arrivo subito, sono quello di dover l'Europa, l'Unione europea, come dire, integra e accompagna e sostiene gli Stati membri, per quanto riguarda due grandi questioni. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sapete che esiste la Convenzione UNESCO su questo, che è importantissima, e l'altra grande gamba è quella della valorizzazione, rispetto, ma anche, in qualche modo, come dire, tutelare la diversità culturale e linguistica, ovvero la diversità culturale in Europa è un principio che si rispetta, ma che per mantenerla devi anche valorizzare, naturalmente, le realtà che possono esprimersi. Perché se tu non hai le risorse, le opportunità, e anche gli strumenti per poter creare nuova cultura, realizzare nuovi patrimoni culturali comuni, è chiaro che tu riduci la diversità. Questo è un punto importante. L'altra cosa è che si interviene anche sul fronte della formazione, quindi ci sono naturalmente tutti i progetti che riguardano sia il tema della formazione degli operatori, nel senso, soprattutto, però, della internazionalizzazione del loro curriculum, del confronto, della possibilità, della mobilità europea degli operatori. È chiaro che se si tratta di fare corsi di formazione territoriale o nazionali, non spetta all'Europa a fare, ma se si vuole incrementare la possibilità di, come dire, condividere esperienze culturali, formative, professionali degli operatori nel campo culturale, ci sono dei progetti, poi vi dico quali, dei programmi che danno, effettivamente, investono risorse per poterlo consentire. Quindi è un soft power, diciamo così, sono linee guida, sono indirizzi, non è un ambito in cui ci sono, come dire, direttive o non ci si sostituisce gli stati membri. Allora, lo dico perché? Perché talvolta si fa un pochino di confusione, ma non certo qui, nel senso di dire ma l'Europa può sostenere progetti territoriali solo nella misura in cui questi progetti territoriali vogliono essere condivisi con altri paesi membri. Quali sono i programmi che oggi consentono di utilizzare, i programmi europei che consentono di parlare, di sostenere i programmi culturali creativi e quali sono invece le risorse spesso affidate agli stati membri e nel nostro caso alle regioni che possono, che vedono anche interventi sulla cultura. Sono due livelli diversi. Questo è solo, scusate, preferisco essere, no? Concreto. Molto concreto. Allora, esistono i famosi, diciamo i famosi programmi che sono gestiti direttamente dall'Unione Europea, dalla Direzione Generale sulla Cultura, piuttosto che sull'educazione, piuttosto che sulla ricerca, eccetera, e invece i programmi che sono affidati alla gestione dei territori, cioè degli stati membri. Questi che sono europei, uno è quello di cui sono stato relatore nella presente legislatura, io, che si chiama Europa Creativa, che nel settennio 2014-2020 ha stanziato circa un miliardo e mezzo di euro, ma per tutti i 28 paesi, e che agisce su alcune linee di dirizzo, quella di favorire i paternariati, la cooperazione fra i vari soggetti, in particolare no profit istituzionali e anche privati, però più, insomma, per la prima volta ci sono sia, e come l'avete citato, il giovane Emanuele l'ha citato, sia le industrie culturali e creative. Questa è una novità che è entrata dentro il programma accanto al no profit, accanto alle istituzioni. Questo significa che ci sono dei bandi, naturalmente, che sono annuali e che sono legati e che esaminano progetti che hanno questa caratteristica, cioè di voler investire nel far crescere la dimensione europea delle produzioni culturali, delle produzioni... Il programma è diviso in due grandi ambiti, diciamo. Uno è cultura e creatività e l'altro è invece il classico programma che si chiama Media, che è molto conosciuto, anzi viene chiamato Media, perché era nato un po' più francese, e che è quello che riguarda proprio l'audiovisivo. Parliamoci chiaro, la cultura nella nostra immagino concezione condivisa ha due aspetti. Uno è sicuramente il valore che ha la cultura come crescita personale, come relazione con gli altri, come capace di capire anche il mondo in cui si vive, come capace di espressione culturale e creativa, ma c'è una dimensione che invece è anche economica, perché c'è l'industria culturale. Tu l'hai detto molto bene prima, ci sono delle nuove realtà anche attraverso il digitale, per dire, anche con la rete che ha cambiato moltissimo il modo di fruire, di produrre cultura, di distribuirla e di inventare nuove forme, nuove imprese culturali, anche piccole, ma di grande qualità, che è anche una cosa che è stato detto prima, non voglio più attribuire a chi, ma l'avete detto poco fa, tu forse, quando hai detto dobbiamo soprattutto, per esempio, pensando al sistema, oh, non mi ricordo, se non voglio, museale, piuttosto che altre forme culturali, dobbiamo porci il problema di ripensare le modalità in cui ci rivolgiamo ai diversi target, cioè la simmetria, forse era la persona prima che parlava, tu sei, ecco, mi è piaciuto la simmetria, è vero, c'è una simmetria di due, fra tre cose ci sono, e l'abbiamo analizzata anche nel programma Europa Creativa, per cui molto enfasi viene emessa per tutte quelle azioni che dimostrano di ampliare il pubblico, cioè, qui c'è un problema, tre due problemi, uno, il primo, mi spiace, ho fatto subito, approccio un po' pragmatico, mi avrei voluto dire delle cose un po' più auliche, ma le dirò magari dopo, però volevo entrare un po' nel, mi sono, mi piace collegarmi con le proposte concrete che avete fatto, la prima è quella di avere bisogno sempre di più, e lo dimostrano i fatti tragici che stiamo vivendo, di condividere in qualche modo una crescita della dimensione culturale delle persone, non aggiungo, ci capiamo, ma anche della capacità di avere competenze di dialogo interculturale, noi ormai siamo società multietniche e multiculturali, ci accorgiamo da tanti fenomeni anche patologici di questi giorni, che anche chi pensava di avere ormai, no, assimilato, pensiamo, la Francia ha sempre parlato, la cittadinanza si dà subito e poi tutti sono, non rispettare i diritti e i doveri tutti, la laicité come la comune dimensione dello pubblico, poi ognuno ha la sua convinzione personali, io penso che invece c'è bisogno di condividere di più per poter attribuire un carattere, per dare più forza culturale anche alle appartenenze, in questo caso religiose, quindi abbiamo un bisogno enorme di far crescere la dimensione culturale della convivenza, ecco, e la dimensione culturale anche di un pubblico chiamiamolo più colto, io ritengo che noi siamo vissuti in Italia in questi ultimi vorrei dire vent'anni in un certo imbarbarimento culturale, diciamolo, c'è stata una specie di trascimazione del, si parla pure del bello, della grazia, del brutto e del volgare e penso che ci sia stato anche un abbassamento proprio della soglia della percezione critica nei confronti anche dell'offerta culturale, quindi c'è bisogno di agire predutto su questa simmetria, crescere la visione culturale e da questo punto di vista è interessante una novità che è intervenuta negli ultimi tre anni perché l'Italia l'ha firmata nel 2013 questa convenzione anche se di qualche anno fa, c'è la convenzione non so se la conoscete ma io ve lo volevo suggerire come ci lo do un suggerimento che do a voi al comune perché potete diventare città faro faro non è la parola non è minuscola ma è maiuscola perché a faro che è una città in Portogallo si è firmata un'importantissima convenzione sulla cultura e sul patrimonio culturale materiale e immateriale che prende in rivoluzione un po' il tema e dice proprio nel discorso che dicevo prima di far crescere la conoscenza voi avete fatto oggi un'operazione importante avete rivelato anche cose che spesso non sono nemmeno conosciute di un territorio e che sono poi magari abbandonate o che non sono sufficientemente valorizzate e qui c'è un'operazione educativa che va fatto e allora la convenzione di faro dice in sostanza la dico in due battute due cose che c'è una sorta di diritto al patrimonio culturale di ciascun cittadino e dall'altra che c'è anche il dovere di una comunità di anche attivarsi sulla sua conoscenza all'educazione eccetera proprio come un dovere noi abbiamo firmato questa convenzione e quindi dovremmo essere un po' più impegnati a fare questo e questo lo dico perché questa è la prima parte del discorso della formarsi di una dimensione culturale perché tanto è vero che alcune città hanno cominciato a Marsiglia per la verità però e poi l'abbiamo fatto anche a Venezia e io lo sto dicendo dove vado non tanti ancora hanno capito cosa potrebbe essere esatto ma hanno cominciato a creare la rete delle città a faro cioè delle città che decidono di fare proprio questa convenzione poi tra l'altro la convenzione di 5-6 articoli è molto essenziale ma molto interessante perché mette in moto un po' come hai fatto tu Anna Maria con questa iniziativa una serie di ragionamenti di condivisione di partecipazione molto più ampia con anche degli impegni che si assumono e mi pare una cosa molto bella tra l'altro si entra in questo modo in una rete di città europee e fa sempre bene essere in qualche circuito europeo seconda asimmetria riprendo la tua l'altra questione è quella di avere spesso diciamolo pure una certa insomma un'offerta culturale che è anche aumentata per certi nel senso al di là delle difficoltà dello spettacolo al vivo ne parlavamo prima con Alessandro Berdini ne parliamo spesso del circuito teatrale del Lazio che devo dire fa un lavoro straordinario ma che insomma fa poi conti con le difficoltà dei comuni eccetera però è anche vero che proprio per questa diversa possibilità di fare di produrre c'è un'offerta che è cresciuta però spesso c'è un'offerta che non sempre di grande qualità non sempre è conosciuta e non si indirizza magari ad alcuni pubblici per cui esiste questo è il punto della simmetria vera una sorta di pubblico potenziale domanda culturale che rimane inespressa e che non trova le modalità di rapportarsi all'offerta quindi c'è tutto una grande questione e quindi io credo si diceva prima con Fabio lui diceva giustamente una cosa che è vera oggi un comune un'istituzione deve sempre più promuovere non soltanto risposte ma partecipazione cioè coinvolgere i soggetti nelle risposte è più un lavoro di regia che di gestione diretta e questo secondo me è qualcosa di cui abbiamo un gran bisogno perché oggi secondo me l'antidoto alle semplificazioni alle barbarie ai razzismi o alle xenofobie o alle forme così mi rendo conto in questo momento anche di paure è creare legame sociale è creare significati è condividere dei valori e un racconto in questo caso un racconto della propria città quindi mi sembra che questo è un punto quindi l'Europa fa questo programma che si chiama Europa Creativa che quindi favorisce i paternariati e la cooperazione fra soggetti e quindi purché si faccia con almeno altri due paesi europei però è più facile di quanto sembri ecco c'è l'altra azione è quella per creare delle piattaforme e piattaforme oggi sono una carola magica e quindi piattaforme per esempio si parlava delle residenze d'artista io penso che noi siamo un grandissimo l'Italia ha un potenziale straordinario per fare la residenza d'artista che significa anche avere la presenza di far circolare con stagio con proprie produzioni degli artisti anche giovani ospitarli abbiamo tanti di quei posti meravigliosi in cambio loro offrono degli spettacoli a quel punto queste persone e queste compagnie che sono internazionali fanno anche da grandi ambasciatori verso quei paesi e così via questo è per dirne una piuttosto che non so io ho suggerito noi abbiamo queste istituzioni straordinarie musicali dedicate a musicisti importanti la Verdiana Puccini Rossini eccetera adesso stanno finalmente mettendosi insieme creando un network con tutte le altre istituzioni o fondazioni dedicate a grandi musicisti ma da quello può nascere tantissimo può nascere anche delle fiction finalmente europee su questi periodi noi avremo un materiale straordinario delle fiction che abbiano una vocazione europea poi c'è tutto il tema della letteratura e io penso che in questo noi dobbiamo andare un pochino io sto cercando di sensibilizzare perché vedo che è un mondo che conosce ma fino a un certo punto questa opportunità allora noi abbiamo da quando esiste il programma cultura e che quindi è dagli anni 2007 sostanzialmente sì 2002 poi 2007 più robusto ma ormai dal 2000 quando l'abbiamo provato adesso 2014 è prevista una linea importante per fare cosa far circolare la letteratura europea e ci sono due strumenti molto interessanti uno è quello chiaramente della possibilità di accedere a risorse per le traduzioni per le traduzioni se però andate a vedere purtroppo nelle librerie europee di autori italiani che si conoscono che vedi venduti adesso non voglio spaventare ma sono meno di 10 e ci sono anche alcuni di quelli storici allora io dico che c'è qualcosa che non funziona mentre e sono molto utilizzati queste risorse dagli editori italiani per tradurre in italiano allora proprio per ovviare a questo fatto che ci si sta accorgendo se ci si è accorti in Europa che si traducono molto nelle lingue più forti e poco nelle altre si è fatta una nuova misura lo dico perché se qualcuno conosce gli editori io sto cercando ho visto che le associazioni editori ho detto che loro devono far circolare di più queste informazioni se no sarà la volta che incontriamo direttamente gli editori per dirglielo io l'ho fatto un po' ho visto che anche i grandi ne lo sappono poco c'è una seconda è stata fatta una misura molto interessante che è quella che se due editori possono essere anche medi editori o editori se parlavamo li ho conosciuto ieri di punti di vista uffo è proprio con loro eravamo ieri sera a Roma vabbè e che fanno questo cartone per bambini accessibili ai bambini sordi piuttosto che bambini non vedenti una cosa meravigliosa allora quella per esempio è un progetto europeo te lo dico subito cioè se voi riuscite a trovare due altri soggetti in Europa che vogliono promuovere i cartoni per bambini non vedenti eccetera siccome una delle cose che sono segnate in Europa Creativa è soggetti svantaggiati attenzione ai target che sono poco presenti nel mondo culturale e garantire l'accessibilità della cultura vi assicuro che quello è un programma di grande potrebbe essere di grande interesse e dice gli editori c'è una nuova misura che prevede che se due case editrici europee decidono insieme di tradurre nell'arco dei tre anni per cui c'è anche un programma triennale anche con un po' di soldi dei titoli possono essere 5 o 10 eccetera quindi nella lingua reciproca questo è un programma triennale che è finanziato dall'Europa Creativa molto interessante insomma ci sono ecco per dirvi un po' di spunti perciò queste sono le opportunità legate ai bandi europei cioè direttamente gestiti dall'Europa accanto a questo nella parte media che è molto interessante ed è molto conosciuta dagli operatori c'è tutto il tema invece dell'accesso per lo sviluppo non la produzione proprio ma lo sviluppo delle idee dei progetti quindi lo script la sceneggiatura e poi la distribuzione perché il fine è qual è sempre far circolare è la dimensione europea non far fare un prodotto che può restare nel paese e anche distribuzione vendita all'estero si finanziano anche reti una rete di cinema per la parte di cinema si finanzia anche una rete che si chiama Europa Cinema che sono oltre 2.000 sale in Europa ce ne sono alcune in Italia che sono fanno parte di un circuito che cioè fanno parte di un circuito sono quelle sale che decidono di investire una quota significativa delle loro programmazioni a opere europee quindi tutto questo è sostenuto accanto a questo come programma europeo perché non vorrei che ce lo pretessimo di vista c'è naturalmente Erasmus Plus o Plus quando sono in latino qua dico Plus in inglese Plus se no ti uccidono ma è latino poi alla fine ecco ma vogliono spiegare e allora Erasmus Plus che abbiamo che voi sapete è un grandissimo potente strumento lo dico perché a volte lo si dimentica ma per per esempio ragazzi giovani non solo i giovani stanno benissimo gli universitari i giovani che del Leonardo l'ex programma Leonardo e così via ma c'è anche la possibilità per esempio tanto per i giovani creativi cioè non soltanto per l'università ma anche chi fa conservatorio accademia che hanno la stessa dignità di partecipazione ma anche per per esempio fare delle esistono due due sottoprogrammi in Erasmus uno si chiama Erasmus Plasment e l'altro Erasmus giovani imprenditori che significa che tu hai l'opportunità di fare un'esperienza lavorativa ma anche nel campo della cultura dell'industria culturale dell'artistica con stage terrocini presso imprese europee o anche supportate dall'associazione degli imprenditori per sperimentarsi come attività improprio ho scoperto che l'Italia è molto presente nell'Erasmus classico diciamo perché lì c'è anche la capillarità delle informazioni dell'università meno in questo e allora stiamo proponendo a Eurochambra le camere di commercio a Eurobusiness che serve confindustria europea eccetera che loro devono fare un accordo con le università eccetera perché altrimenti questa comporterà non si sa chiudo questo è per dire quelle più e poi c'è la ricerca Horizon 2020 così vi avrete a mente che è il grande scusate su Erasmus abbiamo messo 40% quasi 50% di soldi in più che nel settenio precedente quindi partiranno 4 milioni di ragazzi invece di 3 però ci sono anche i programmi delle alleanze della conoscenza scusate però mi fermo un attimo qui voi dalle vostre cose e qui siamo ancora in fase europea poi vi dico quelli invece a livello nazionale a livello nazionale allora dalle cose che avete detto sono tantissime interessanti colgo qualche spunto che secondo me è molto in linea con quello che sta un po' è un po' nelle corde oggi delle indicazioni o delle indirizzi o dei network che ci sono in Europa voi ti avete detto prima due cose in particolare i luoghi ed è bello che i luoghi l'ha detto anche chi è informatizzato al massimo molto più di me ecco che non sono un'attiva digitale allora perché questo è un segno anche di maturità e la comunicazione l'hai detto tu mi è piaciuto molto la comunicazione senza poi occasioni di partecipazione non fa crescere le comunità le relazioni allora qui dicevamo prima con Fabio che qui luoghi non mancano perché di cose meravigliose qui che si potrebbero utilizzare quindi non entro nel mezzo degli spazi dove ma io credo e qui e ne approfitto che c'è l'amica Cipriani perché insomma con queste cose ce le siamo diante volte io penso che oggi i fondi invece che vanno sono andati alle regioni in Italia dei fondi strutturali quindi fondo per lo sviluppo regionale fondo sociale eccetera e che devono incrociare nei programmi i piani operativi regionali delle regioni sono stati già fatti il Lazio è stato uno dei primi a farlo quindi va benissimo io penso che tutta quella che può essere chiamata la infrastrutturazione delle politiche culturali potrebbe deve e potrebbe e poi può perché lo state già facendo so che adesso partono i bandi essere accompagnato e anche finanziato dai fondi strutturali europei che hanno in dotazione le regioni io ricordo quando sono nate a Viterbo cos'era la casa quella io sono andata a visitare le officine ma no e lì c'era proprio non mi ricordo il nome non era casa della cultura perché era ecco l'incubatore culturale scusa non mi ricordo mai le parole quelle cose là sono molto interessanti però io penso che andrebbero pensate forse ripensate ecco un po' più con le logiche che dicevi tu io credo che si potrebbe unire il tema del luogo dell'incontro della contaminazione una parola che avete usato molto eccetera e della crescita e della messa in rete con il tema dei laboratori allora vengo da un'esperienza sono andata a visitare Pilsen Pilsen è un paese è una cittadina vicino a Praga che è quest'anno la capitale della cultura Pilsen a me mi ricordava solo la birra a qualcuno dei miei colleghi maschi ricordava anche che c'era un campionato di calcio non so cosa sono io ho scoperto che invece loro hanno giocato la carattera cultura e non è che avessero tutte queste cose straordinarie hanno fatto due cose che si sono rivelate fantastiche noi potremmo farne una si chiama l'hanno chiamata Depo che è detto in inglese Depo 2015 Depo 2015 Depo perché è il deposito degli autobus quello c'hanno e dall'altra hanno fatto un science center cioè il centro della scienza vi faccio questi due esempi che però sono interessanti cioè oggi il tema della proposta culturale è da un lato sostenere le reti dello spettacolo dal vivo della possibilità di circolare delle compagnie del formarsi insieme di attori registri e questa è una cosa poi c'è media ma poi c'è tutta questa parte che chiamiamola adesso la buddico così di industrie culturali e creative e vi invito a leggere il libro verde che è stato fatto tre anni fa e su cui noi abbiamo fatto un nostro rapporto del Parlamento per rafforzare questa linea che è la più nuova e che deve avere però le infrastrutture allora per esempio cosa hanno fatto là? Hanno fatto hanno semplicemente preso questo spazio e l'hanno veramente si vede non l'hanno riempito di cose c'era dietro un progetto c'era dietro un'idea come dici tu una visione nella quale hanno capito che bisognava offrire delle cose per esempio hanno messo insieme una fab lab ovvero una fab lab e quindi il laboratorio che fa anche le cose con che cosa? Con come dici tu il 3D dell'internet delle cose quelle diavolerie tremende che ho visto fare ma non avevo capito cioè in sostanza loro cosa fanno? offrono alle scuole e lì si incrociano con le imprese si incrociano con la ricerca con la sperimentazione poi ci possono essere invece degli spazi che danno anche a pagamento a piccole imprese che la prendono per un periodo e lì fanno delle cose può essere un luogo in cui si fa formazione dei docenti su questa roba e soprattutto attrezzati al massimo livello dal punto di vista della digitale ma anche della possibilità di realizzare di fare B2B come si dice incrociarsi idee di impresa con altri perché quello che vedo che è il tema che torna sempre perfino una città non grande importante ma non grande come Rieti non si conoscevano guardate che sempre di più c'è questa storia cioè tu fai un'iniziativa del genere pensi di avere di mettere insieme persone che già sanno chi sono gli altri e invece si conoscono in questa occasione vuol dire che c'è un tema che è quello di trovare dei luoghi e poi posso dire offrire dei luoghi diversi che hanno un significato e che sono culturali rispetto a luoghi ormai anonimi commerciali e imbarazzanti che offriamo ai ragazzi perché c'è anche da dire questo il fatto che la Giannini in governo abbia fatto adesso quel bel bando di un miliardo perché con la scuola si può dire quello che si vuole ma intanto sta reinvestendo nella scuola punto questa è già una notizia importante un miliardo per laboratori ed è fatta nella logica non solo del laboratorio della scuola ma laboratori di cittadini che possono unire più scuole ma che possono anche vedere più attività l'altra linea perché è venuta fuori da qualcuno della non mi ricordo più che sono della scienza del percorso scientifico no tu l'hai detto ecco molto interessante l'acqua il fuoco no il fuoco perché non l'hai detto il fuoco mi è rimasto sul dubbio l'hai detto il fuoco aveva detto però cominciamo dall'acqua ah sì poi me la direi vabbè no no dell'acqua sì no pensavo che dicessi il fuoco era meglio era pericolo non so scherzo dai allora sappiate se perché mi interessa che uno entra nella logica del glocal cioè di pensare che fare una cosa che è già dentro un rete perché sul primo quello dei laboratori noi come commissione cultura dopo aver fatto siamo andati lì in delegazione eravamo solo tre però è stata una cosa molto interessante siamo tornati e abbiamo detto alle nostre colleghe della commissione che noi dobbiamo investire molto in questa cosa dei laboratori e farne un network europeo perché cominciano a scambiarsi l'esperienza diventa qualcosa e guardate che io vedo che questa ormai sta nascendo così anche se è il garage invece sul fronte del centro esiste questa rete dei science centers quindi centri chiamiamoli centri di scienza ma non sono i centri per coloro che fanno già ricerca eccetera sono centri di educazione alla scienza e alla tecnologia che possono essere per i ragazzi possono essere per gli adulti perché c'è un problema di digital divide di informazione questi centri sono esattamente un po' nella linea di CV2 io direi che queste due linee vanno tenute presenti perché sono delle modalità di fare una divulgazione scientifica però non banalizzata far fare esperimenti e far crescere questa cultura che spesso non è abbastanza diffusa nel nostro paese e ho scoperto che esiste cioè sapevo questo ma ho visto quanti sono sono 60 oggi i science centers europei è bello perché poi ognuno ha fatto una sua scelta specifica e sono in una rete che si chiama Excite e ho scoperto questo invece l'ho proprio scoperto che uno dei migliori è a Trento perciò si potessero anche andare a vedere queste esperienze e l'anno prossimo lo faranno a Pilsen cioè Pilsen con questa realtà che ha messo in piedi in fondo da non tantissimi anni ma ha puntato sull'alta qualità è entrata in un circuito europeo chiuso questo è per dire chiaro che ho finito il tema più importante di questi tempi è quello di riuscire a come dire fare in modo che la programmazione europea 14-20 sulla quale si dice sempre abbiamo fatto abbastanza però qui siamo in una regione che ha portato a casa dei risultati e soprattutto che ha speso i soldi tanto per dire poi scusate sulla storia che non si spendono i soldi in Italia vorrei solo spensare una lancia a favore del nostro paese noi abbiamo purtroppo un problema che non riguarda l'Italia riguarda alcune regioni noi abbiamo speso tutti i soldi europei dei fondi strutturali fino al 2014 mancano l'appello 9 miliardi di tre regioni fine che non sono il Lazio è il sud che ha dei problemi maggiori però non è vero tutto l'Italia non è vero ci sono anche delle ottime performance quello che secondo me però andrebbe un po' più pensato qui insieme fra comuni ecco io quello che ho visto un pochino è stato questo se posso permettermi questa grande ricchezza creatività e anche proposta capace di proposta di fare delle proposte straordinarie che ci vogliono tre anni o quattro o cinque però è bello avere sarebbe molto importante che si possa insomma come dicevate voi con questo sistema bottom up questo dialogo comuni realtà e regione credo che sia la grande scommessa di questa programmazione perché io capisco che la chiusura io non sospendo ogni parola sono obiettice di coscienza su come sono state fatte a riformare province per cui non dico nulla certo è che io quando facevo un esempio dicevo sempre so che adesso dico una cosa che è contro il mio governo pazienza io sono abitato di quello che penso io dicevo sempre pensando anche al lavoro che ha fatto lui ricordando la provincia di Bene di Rieti guardate ai miei colleghi che mentre la provincia di Roma si può anche eliminare ma la provincia di un posto come Rieti che ha tanti piccolissimi comuni vedrete che poi il tema dell'area vasta è necessarissimo ma non perché si riduce l'autonomia dei comuni ma perché la si valorizza mettendoli in rete quindi adesso cosa succede? che il comune di Rieti che è diventato di area vasta ha una come dire un ruolo un'autorevolezza e anche una responsabilità molto grande di non solo e lo state facendo creare queste reti ma di fare anche di diventare un soggetto di programmazione con interlocuzione forte io penso immagino con la regione perché questo diventi un patrimonio della regione dal punto di vista del e anche il fatto che sia qui direttore regionale lo prendo come una grande importante attenzione a parte che lei l'ha sempre avuto e l'ha sempre fatto e l'ho sempre trovato in tutte le occasioni ma perché riesce a essere questa l'occasione in cui si dice queste sono le potenzialità e quindi puoi ispirare le linee strategiche che fa la regione sulla cultura guardate vi dico solo una cosa sembrava che noi avessimo acquisito finalmente che la cultura è centrale che il patrimonio culturale va valorizzato che la ricerca come era il triangolo della conoscenza dopodiché quando è stato il momento di approvare di vedere il programma fatto dalla commissione europea su tutti i programmi pluriannale 14-20 se non ci fossimo stati noi perché vi assicuro è stato veramente attrazione italiana questa lotta e del Parlamento non c'era un riferimento alla cultura nei fondi strutturali delle regioni che invece adesso ce l'hanno perché si fa riferimento a vari assi in cui c'è cultura patrimonio e un'altra cosa la digitalizzazione del patrimonio culturale quello che voi dicevate digitalizzare è raccontare non c'era nulla nella ricerca siamo stati noi a mettere ricerca umanistica ricerca sul patrimonio e sulla cultura e non c'era nulla sullo sviluppo rurale e lo sviluppo rurale è una delle politiche più interessanti e anche per questa provincia perché lì gli itinerari culturali su cui noi stiamo lavorando molto perché c'è il programma europeo degli itinerari culturali europei c'è la francigena che si collega naturalmente con le altre vie come quella di Francesco che è importantissima e che sempre visto voi molto attivi su questo ma sono d'accordo dicevamo prima che va probabilmente definita un po' una governance di questi di questi itinerari perché altrimenti però adesso c'è questa grande sfida di approvare la francigena del sud che da Roma va fino a Giosalemme la francigena diventa la prima il primo itinerario culturale europeo che si incrocia e poi stiamo lavorando sugli incroci perché c'è la francescana tutti i itinerari culturali del Lazio che tra l'altro oggi sono molto valorizzati ci so che ci si sta lavorando anche a livello di agenzie regionale del turismo perché anche il il giubileo valorizzerà moltissimo i percorsi che poi sono a piedi in bicicletta insomma tutto questo deve essere reso accessibile perciò adesso su questo tema della politiche culturali creative sia ripeto dello spettacolo dal vivo eccetera sia dell'audiovisivo che della creatività gli strumenti ci sono bisogna scegliere quelli giusti quando si fanno dei progetti però io penso che Rieti possa avere l'ambizione non solo di partecipare a quelle che sono le proposte la progettazione che si farà con la regione ma anche di avere alcune proposte in cui qualificarsi di tipo europeo io su questo quello che posso veramente fare per dare una mano a voi e a Anna Maria che ha aperto in questo modo interessante questo percorso diciamo di programmazione lo faccio con molto piacere guardando le vostre specificità e le vostre anche qualità che possono essere di grande esempio anche a livello europeo grazie grazie